E perché fra le varie cose io, dai diciamoci la verità, sono un po' di fidente, però tu mi ispiri fiducia? Ti ringrazio anche tu, anche tu mi ispiri fiducia. Ecco, ma ti ispiro fiducia nonostante abbia un po' violato una regola affettiva diciamo? Sì, perché mi ispirano fiducia le persone con cui trovo un'affinità spirituale. Ah, e tu cosa hai dedotto in me come discorso di affinità spirituale? Perché tu stai toccando un tema davvero delicato. Ad esempio la propensione alla riflessione, allo spingersi oltre le apparenze che ci circondano e anche la possibilità talvolta di considerare decisioni non semplici che alla maggior parte delle persone forse sembrerebbero sbagliate. Io ti ringrazio, guarda. E tu avverti diciamo tutte queste caratteristiche? Sì. Grazie. Grazie.